Il mondo è un tipo irrazionale Portiamo un caffè al camerata Lucchini? Io e Luciano siamo vecchi amici, per lui sono semplicemente Osvaldo Tornate pure in cucina, ci penso io qui Che cosa avete in comune con quella gente? L'Alfredo ne hanno chiuso i negozi, non voglio sentire più una mosca Non c'è nessun futuro possibile, quelle persone oggi vi applaudono, lo fanno per paura Eravate tutti lì quel giorno Vi ricordate i punti del programma? Si parlava di voto alle donne E non solo avrebbero potuto votare, ma anche essere elette Non sapevate che sarebbe venuto? Ma che succede? Non ha perquisizione Da quando siete arrivati non riesco a immaginare questo posto senza di voi Deve nascondersi, tu sei l'unico che ci può aiutare Di sobbetire ad una legge spagliata a volte ragazzo mio è un obbligo Questo lo conosci? Mai visto? E poi signorina Costanzi, sono sicuro che a voi non sfugge nulla, venite qui Che teme di invecchiare Mi ci devi portare al mare Io metterei un vestito rosso e magari tu mi diresti che il vestito è troppo corto e che il rosso non ti piace Il rosso è troppo vistoso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti